La Pescara che verrà a voler usare le parole del suo primo cittadino ha avuto nella stretta di mano tra Masce e D'Alfonso il suo più grande augurio. Ci ritroviamo sempre da vent'anni a questa parte ed Alfonso e ora che facciamo spazio alla generazione Z. Le premesse dell'intervento dell'onorevole del PD mi prendo il compito di essere irriverente e la pronta risposta del sindaco ti riesce facile sembravano andare in una direzione diversa da quella auspicata dal dibattito organizzato dall'università d'annunzio dal titolo Nuova Pescara come ipercittà medioadriatica sostenibile moderato dal professor Stefano Civitarese Matteucci. E invece la Pescara che verrà grazie anche al polo universitario pare già una realtà e non è forse un caso che siano rimasti giusto Masce e D'Alfonso a parlarne almeno stando alla concretezza e alla compiutezza dei singoli interventi scevri da qualsiasi volontà di fare guerra politica e men che mai di usare colpi bassi. La pubblica amministrazione è come dovrà essere, chiede D'Alfonso alla platea, intanto deve fare le cose nei tempi giusti a qualsiasi costo. E Masci prosegue con i tanti progetti messi in campo che coniugano gli obiettivi della transizione ecologica digitale civica. Non più 120.000 macchine in centro ma un mezzo pubblico che dia l'opportunità a uno studente di Montesilvano di arrivare in pochi minuti all'università di Viale Pindaro, luogo del convegno, e poi il porto con i lavori in programma, struttura strategica per realizzare finalmente il collegamento con l'altra sponda dell'Adriatico. La densità abitativa, ha rimarcato Carlo Masci, un dato che muove per D'Alfonso non contano i numeri e ancor meno gli statuti, almeno non da soli, ma il concetto di comunità intesa come organismo che interagisce con il resto. E ha ricordato i 105 milioni di euro, il fondo aggiuntivo fatto per venire per la fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore. L'università è un laboratorio fondamentale da un lato per lo studio dell'esperienza di alcuni centri urbani ed Alfonso richiama prima Helsinki di certo lontana e poi molto più vicina Rosciano in cui si è realizzata la giustizia agraria. Dall'altro per l'intelligenza artificiale che sia la d'annunzio la prima università a creare lo strumento per la telemedicina applicata alla diagnostica. Certo è che Nuova Pescara o Grande Pescara pare proprio iniziato un dibattito costruttivo pulito che intanto, già solo per il tenore, pare voler scoraggiare tanti interlocutori.